Ciao a tutti, sono uno pneumatico fuori uso e mi potete chiamare P.F.U. Ho vissuto 30 avventure, adesso vi racconto. Sono fatto in parte di gomma naturale che viene estratto da un albero chiamato anche caucciù. Sono diventato uno pneumatico. Non ho tanto piaggiare, sono arrivata alla fine della mia vita e sono diventato un P.F.U. Io, come tanti miei amici, adesso che non serviamo più, siamo stati abbandonati in un bosco. Ma questo non è la nostra giusta fine. Possiamo ancora essere utili. Tanto per i pneumatici vi dico io come si deve fare. Sono Ecopneus e mi occupo di riciclare voi P.F.U. Vi darò una nuova vita. Così non sarete più un problema per la niente, ma una risorsa. Con la gomma riciclata dai P.F.U. si possono produrre pavimentazioni sportive. Ecopneus e l'heròe!